Sala di rianimersione, terapia intensiva, dove facevi appugni in colla morta per uscirne viva. Gli uomini dai camici bianchi con un paio di bisturi tra le mani, insieme alle ferite tagliano i cuori di che aspetto fuori. E fra che la porta se contene mi nuda, quanto me ne arrobas, fa da lunga sta vita, vita. Annarello in tuo barco torna a correre, e che voglia che accogliono torna a vivere, che compagni in tuo barco siente ridere, non cancella in dall'occhio a moglie crescere. Annarello se ne spezza un mese nulla, per aver susfizi e vivere una favola, ma la forza di preghiere chi soffre da là, tendo solo si di gianne, piassi di sanno a vivere, non ne può bruciare, non ne può bruciare. La gente più evoluta, il mondo progredisce, il tempo passa dentro i tuoi capelli e ti finisce, potenza dei motori, consumi di benzina, perché non fate un poco d'attenzione, Cristo, sei un bambino, ma ditta l'incoscienza, e che in un tasso intudo, stava quasi spegnendo la tua vita, vita. Annarello di tuo barco torna a correre, e che voglia che accogliono torna a vivere, che il compagno in tuo barco torna a vivere, non c'è la renda l'occhia, voglia crescerà. Annarello di tuo barco torna a vivere, non ne può bruciare, non ne può bruciare, ma la forza di preghiere chi soffre da là, tendo solo si di gianne, e a si di gianne ha vinto non ne può bruciare. Annarello di tuo barco torna a vivere, era per susfizzi di vivere la favola, ma solo da forza di preghiere, e chi soffreva là, Annarello di tuo barco torna a sedici anni, e a sedici anni la vita non ne può bruciare, non ne può bruciare. Adesso è una cosa Windows nazioneLei, che es Asknote Invento, allora direi,